I primi abitanti del quartiere di Rizzeddu furono gli sfollati che dopo una terribile alluvione nel centro storico di Sassari, era la fine degli anni 50, furono sistemati in alcuni capannoni dell'esercito. Molti vi restarono per 25 anni in quel posto soprannominato Monte Lepre, prima che costruissero le case popolari. Alcuni abitano ancora lì vicino e ricordano con tristezza quei tempi. La vita era uno strazio perché non c'era niente, non c'era comodità, non c'erano gabinetti, non c'era acqua. Niente, non c'era nulla, non c'erano strade, non c'era niente, non c'erano negozi. Dovevamo andare a San Pietro per prenderci l'acqua, che c'era una fontana. Ora il quartiere di Monserrato Rizzeddu è moderno e vitale, ma soffre come tanti altri proprio della mancanza di condivisione delle attività comuni, al contrario di quanto accadeva nei casermoni di Monte Lepre, e dove soprattutto le aree verdi sono chiuse o esposte al degrado. Per iniziativa di alcuni giovani residenti è nato un gruppo Facebook che si propone di dare vita a progetti di miglioramento del quartiere che partano dal basso. Simone Maulu Noi abbiamo creato la pagina Facebook del quartiere, che si chiama Sassari Quartiere Rizzeddu Monserrato, che vuole essere una piattaforma online che riunisce tutti gli abitanti del quartiere, ma i cittadini in generale, che mettano a disposizione le loro idee e le loro competenze, perché nel nostro quartiere abitano progettisti, urbanisti, giardinieri, cittadini, che possono mettere un po' del loro tempo e della loro competenza a disposizione di tutti. Nel gruppo anche l'architetto Andrea Faedda, che ha fatto studi e progetti approfonditi sul quartiere, prevedendo fra l'altro la nascita di spazi verdi come orti urbani e giardini collettivi. Quelle poche aree che sono rimaste marginali, spesso sono degradate, c'è comunque l'erba alta e comunque lo spazio non viene vissuto. Se fossero gli abitanti a prendersene cura direttamente attraverso un processo partecipato, come ad esempio già accade in molte città, quello degli urti condivisi, ci potrebbe essere anche una sorta di autoproduzione, di prodotti anche alimentari e poi ci sarebbe probabilmente una forma nuova di socialità all'interno della città e all'interno dello spazio pubblico.